Per aiutare i cittadini in queste ore di maltempo sono diversi i siti internet a cui poter far riferimento per trovare informazioni e aggiornamenti in tempo reale. Consultando ad esempio il sito della viabilità della provincia di Arezzo all'indirizzo web www.viabilità.provincia.arezzo.it cliccando il link situazione neve del giorno direttamente sulla home page sarà possibile accedere alle informazioni relative alla transitabilità dei principali valichi della provincia. Anche il sito della protezione civile www.protezionecivile.provincia.arezzo.it offre un quadro di riferimento molto dettagliato fornendo una mappa della provincia aretina dove sono segnalate le aree maggiormente a rischio. La provincia di Arezzo ha messo a disposizione dei cittadini sul proprio sito una serie di risposte alle domande più frequenti illustrando alcuni dettagli del piano neve 2011-2012 istituito dalla provincia di Arezzo e dell'ordinanza comunale relativa alla neve. Il comune di Arezzo ha attivato due sale operative all'interno della principale situata presso la sede della polizia municipale in via Sette Ponti ad Arezzo, sono attivi tre numeri telefonici a disposizione dei cittadini. Chiamando lo 0575 37 75 87 si potranno ricevere informazioni relative al centro storico aretino, mentre lo 0575 37 75 88 per quanto riguarda l'area urbana. Attivo anche un terzo numero telefonico disponibile per l'emergenza neve, lo 0575 37 75 89. La sala operativa che gestisce i mezzi e la loro localizzazione in base alle esigenze è presso il servizio manutenzione in via Tagliamento ad Arezzo.